video 6 interviste in commissione territoriale la polizia invia il modello c3 e i tuoi documenti alla commissione territoriale che è l'ufficio responsabile per la tua domanda di asilo in italia le commissioni sono a la commissione comunica alla questura il giorno del tuo appuntamento ricevi al tuo indirizzo o all'indirizzo dello SPRAR del CARA o del CIE la data del tuo appuntamento i tempi di attesa sono molto lunghi a volte si aspetta più di 6 mesi per l'appuntamento in commissione in tre casi vai subito in commissione 1. se la commissione capisce che hai realmente bisogno di protezione ad esempio hai dato alla polizia documenti importanti ma la commissione vuole farti delle domande prima di decidere 2. se sei trattenuto nel CIE 3. se sei considerato vulnerabile vulnerabile significa che sei minore, disabile, anziano, incinta, viaggi solo con tuo figlio, sei stato torturato o maltrattato in due casi non vai in commissione 1. se la commissione decide subito che hai bisogno di protezione ad esempio i documenti che è dato alla polizia dimostrano senza dubbio che hai bisogno di protezione 2. se sei malato e non puoi muoverti o non sei in grado di parlare in commissione in questo caso un medico deve certificare i tuoi problemi di salute la commissione considerato il tuo paese di origine può decidere sulla tua domanda senza fare l'intervista in questo caso la commissione riconosce la protezione sussidiaria prima del riconoscimento la commissione ti invia una comunicazione in cui ti chiede di accettare puoi accettare o decidere di fare comunque l'intervista in commissione ma ricorda che hai solo tre giorni di tempo per rispondere se non rispondi entro tre giorni la commissione decide sulla tua domanda per avere più informazioni sulla protezione sussidiaria guarda il video 9 riconoscimento protezione internazionale se stai male puoi chiedere alla commissione di cambiare il giorno dell'appuntamento chiedi aiuto ad un avvocato per scrivere la lettera ma è importante ricordare che hai bisogno del certificato medico se non conosci avvocati chiedi aiuto ad associazioni che proteggono i diritti dei rifugiati ad esempio chiedi aiuto all'Arci al Centro Astalli al Consiglio Italiano per i Rifugiati il CIR la commissione sceglie un altro giorno e lo comunica al tuo indirizzo o all'indirizzo dello SPRAR del CARA o del CIE se cambi città comunica a Questura e Commissione il tuo nuovo indirizzo se vieni trasferito in un'altra città prima di andare in commissione una nuova commissione è responsabile per la tua domanda se vieni trasferito dopo l'incontro in commissione la commissione che ti ascolta è quella che decide sulla tua domanda se lasci il centro di accoglienza senza un motivo valido la commissione sospende l'esame della tua domanda hai una sola possibilità per chiedere alla commissione di esaminare la tua domanda e devi farlo entro 12 mesi da quando la commissione ti comunica la sospensione dopo 12 mesi la tua domanda non è più valida se dopo 12 mesi presenti una nuova domanda la commissione ti chiede di inviare entro 3 giorni documenti o osservazioni che giustificano la tua nuova domanda la commissione decide anche in assenza di una tua risposta prima di andare in commissione devi capire l'importanza dell'incontro le domande che possono farti la durata dell'incontro l'audizione è un'intervista di fronte ad una persona se sei vulnerabile all'audizione partecipa una persona che ti aiuta se ne hai bisogno se sei minore partecipa il tuo tutore il tuo avvocato può ascoltare se sei minore tuo padre o tua madre possono partecipare all'audizione la commissione può decidere di ascoltarti una seconda volta anche senza la presenza del tuo genitore o del tuo tutore l'audizione dura circa un'ora ma può durare anche due tre o più ore durante l'audizione un interprete traduce la tua lingua o una lingua che conosci se l'interprete non è presente è tuo diritto andartene e tornare in commissione un altro giorno se non capisci le domande fermati e spiega che non capisci l'interprete se sei confuso o stanco chiedi una pausa o dell'acqua mentre parli una persona scrive il verbale il verbale è il foglio con tutte le domande e le tue risposte per conoscere le domande che possono farti ascolta la registrazione 7 domande in commissione per la tua preparazione all'intervista in commissione puoi chiedere informazioni e aiuto ad associazioni che proteggono i diritti dei rifugiati al termine dell'audizione l'interprete legge il verbale nella tua lingua ascolta attentamente l'interprete e ricorda di controllare se ci sono errori e se quello che hai detto corrisponde a quello che è scritto su verbale ricorda anche di controllare il tuo nome cognome il luogo e la tua data di nascita prima di firmare il verbale se ci sono errori correggili non andare via senza una copia del verbale la tua intervista può essere registrata prima della decisione sulla tua domanda puoi inviare in qualunque momento documenti alla commissione se i documenti sono scritti nella tua lingua devi chiedere al consolato italiano nel tuo paese la traduzione legalizzata se stai male perché hai subito torture o violenza un medico può certificare le tue condizioni invia alla commissione questi documenti prima dell'appuntamento la commissione può chiederti di fare una visita medica per conoscere le tue condizioni di salute hai diritto di scegliere se fare o non fare la visita